Ora è successo un inconveniente di viaggio, sono arrivato qui fortunosamente, mi dispiace per gli organizzatori, ho dovuto riorganizzare tutto, cercherò di fare una lezione più bella, vediamo se mi riesce di compensare in qualche modo questo inconveniente. Vi parlerò di quello che è successo al CERN negli ultimi 60 anni, quest'anno si celebra l'anniversario della fondazione del CERN attraverso le scoperte principali che hanno segnato la vita di questo laboratorio. La prima trasparenza è uno di, forse la conoscete, molti di voi l'hanno vista, è stata pubblicata sui giornali, uno di quegli eventi tipici candidati ad essere l'evidenza sperimentale del bosone di Higgs che nel 2012 hanno prodotto una notevole eco sulla stampa. La domanda principale che ci poniamo è quella essenzialmente da dove viene la meraviglia che ci circonda, siamo inseriti, siamo parte noi stessi di un universo materiale e l'origine di questo universo materiale è una delle questioni tuttora aperte e soprattutto, se si capisce l'origine, capire anche l'evoluzione, cioè come finirà, se finirà, quando finirà questo universo materiale. Ma il fatto che siamo in un universo materiale è di per sé una cosa estremamente intrigante, tutt'altro che banale, tutt'altro che scontata, da dove viene la materia di cui siamo fatti noi stessi e che ci circonda. E per cercare di capire dobbiamo fare una specie di viaggio, un viaggio molto speciale, uso questa immagine del veliero, i brigantini che andavano alla ricerca di terre sconosciute perché assomiglia molto all'atteggiamento che abbiamo nella ricerca fondamentale. Per capire abbiamo bisogno di studiare la materia nelle condizioni estreme della materia nei primi istanti di vita, il nostro universo è vecchio, è freddo, la materia quando è stata prodotta in qualche modo era estremamente calda, era estremamente effervescente, le condizioni attuali sono molto diverse da quelle, diciamo, delle condizioni iniziali. Quindi dobbiamo in qualche maniera riprodurre quelle condizioni per cercare di capire, per cercare di studiarle. E quindi quello che facciamo è portiamo minuscoli brandelli di materia, quantità infinitesime di materia, in condizioni che sono simili come temperature, come energia, densità di energia, alle condizioni dei primi vagiti dell'universo, dei primi istanti di vita dell'universo. E siccome in quel momento non esisteva il luogo, non esisteva lo spazio, non esisteva il tempo, lo spazio-tempo è stato prodotto con l'universo stesso, quindi è come se facessimo un viaggio in un non luogo e in un non tempo. Quindi questo già ci mette un po' in difficoltà perché i nostri paradigmi, diciamo, spazio-temporali sono abbastanza diversi da quelli che dobbiamo adottare per capire le coordinate in cui ci si muove in questo viaggio. E' questo non luogo, del non tempo da cui si è originato il tutto. Ecco, questa è un po' la cosa che spinge un'enorme quantità di persone che stanno cercando, con metodi diversi e con atteggiamenti diversi, di dare risposta a questa domanda. Sapete anche che abbiamo due viali di conoscenza molto ben definiti, l'uno la scala microscopica, cioè cerchiamo di studiare attraverso dei super microscopi, degli acceleratori di particelle di cui parleremo tra un po', la materia in condizioni primordiali, quindi si producono in laboratorio le particelle, cioè costruiamo laboratori in cui la materia primordiale viene prodotta in maniera da poterla studiare. Oppure si guarda direttamente attraverso super telescopi a terra o piazzati su satelliti, i grandi ammassi di stelle, le galassie, le grandi quantità di materia, il fondo di radiazione fossile, cioè si guarda direttamente l'universo cercando di ricavare informazioni sull'universo come si trovava, le condizioni che aveva miliardi e miliardi di anni fa, cioè quindi ancora all'indietro nel tempo. Questo è tutto quello che sappiamo dell'universo e della sua evoluzione, è riassunto in questa diapositiva, sappiamo che c'è stato un periodo iniziale che è chiamato inflazione cosmica, inflazione cosmica sta a indicare una crescita esponenziale spaventosa, una piccola fluttuazione del vuoto è diventata macroscopica, questo non sappiamo esattamente perché, è uno dei più grossi misteri intorno al quale ancora lavoriamo, poi sappiamo che c'è stata un'evoluzione di cui abbiamo capito molto bene i contorni, cioè l'evoluzione successiva dall'istante iniziale è abbastanza conosciuta e abbiamo anche scoperto che c'è un'espansione continua e questa espansione continua in realtà accelera. Questa è una scoperta recente che crea ulteriori dubbi e ulteriori problemi, nel senso che c'è una discussione in corso, è un'enorme quantità di lavoro in corso perché è come se l'universo agisse o una antigravità, cioè una forza che allontana il tutto da tutto, oppure non avessimo capito bene lo spazio-tempo e questo spazio-tempo avesse delle proprietà strane per cui c'ha una sua evoluzione, si gonfia in qualche modo. Le due ipotesi sono entrambe valide, ma di sicuro sappiamo che c'è questa specie di, la chiamiamo energia oscura, che spinge tutto lontano da tutti e questo probabilmente avrà un peso nel definire il destino dell'universo. Finiremo in qualche modo nel buio e nel freddo, se non ci saranno ulteriori sorprese. E questo è tutto quello che sappiamo nell'altro estremo, cioè nell'infinitamente piccolo. Sappiamo che la materia, i costituenti fondamentali della materia, sono fatte di queste dodici, diciamo, particelle, leptoni e quark, che interagiscono attraverso queste altre particelle che portano le interazioni. I leptoni, il più famoso è l'elettrone, conosciuto da tutti, i quark sono quelli che compongono, diciamo, la materia, la grossa parte della materia ordinaria, cioè compongono i nuclei, i protoni, e interagiscono scambiandosi fotoni, attraverso lo scambio di fotoni interagiscono elettromagneticamente, si scambiano particelle che chiamiamo W e Z, che portano l'interazione debole, si scambiano gluoni, che portano l'interazione forte, che tiene insieme i quark nei nuclei, i protoni nei nuclei, e si scambiano qualcosa che ancora non abbiamo scoperto, pensiamo che esista, il gravitone, e producono attraverso questo scambio le interazioni gravitazionali, cioè il fatto che due masse a una certa distanza si attraggono. Questo è, diciamo, se uno volesse riassumere oggi lo stato delle nostre conoscenze, se arrivasse un alieno e dovessimo spiegargli, ci chiedesse cosa sapete dell'universo, io farei vedere queste due trasparenze, questo è grosso modo tutto quello che sappiamo, e in tutte, in queste due trasparenze, da queste due trasparenze si possono ricavare un'enorme quantità di conoscenze pratiche, tecniche, di dettaglio, che sono quelle che poi dominano alla vita quotidiana. La cosa che mi intriga è che tutta questa immagine, questa visione del mondo, è cominciata da questo signore, un grande fisico italiano veramente, Enrico Fermi, che si presenta a Pisa a 17 anni, e già nel test di ammissione fa, c'è ancora questa tesi, fa una tesina d'ammissione che potrebbe essere una tesi di dottorato, già giovanissimo, dimostra la sua, quanto era brillante e intelligente, ed è talmente acuto che già durante l'università viene ammesso a fare esperimenti, scrive articoli, cioè i professori lo trattano come un collega, non era, fra l'altro, era insieme ad altre persone, Rasetti, Carrara, altre grandi mente della fisica, insomma fa un po' impressione di avere a che fare con una classe di studenti di quella levatura, insomma. Comunque si laurea a 21 anni, a 25 anni è professore all'Università di Roma e nel 33 ha 32 anni, voglio sottolineare questo aspetto, sviluppa una teoria talmente rivoluzionaria che quando sottopone l'articolo a Nature viene rifiutato, come vedrete non sarà il primo degli articoli che viene rifiutato in queste, capita di articoli molto importanti che vengono rifiutati, e perché viene rifiutato? Perché conteneva, questa letteralmente, speculazioni troppo distanti dalla realtà fisica per essere di un qualche interesse per i lettori. Questo è quello che ha scritto il referì di Nature. E cosa diceva quest'articolo? Lui, diciamo, il ragazzo, il giovane di 32 anni, ma brillantissimo, fisico, aveva capito quello di cui oggi parleremo, aveva capito che il decadimento beta è la manifestazione di una nuova forza, la forza debole. Nessuno ancora l'aveva capito, lui ha osato immaginare questa cosa. Dietro questo fenomeno elusivo e marginale, ovviamente che non interessa la vita quotidiana del mondo degli anni 30, c'è una nuova forza, una nuova interazione. E lui teorizza questa nuova forza, ne scalcola l'intensità, tra l'altro azzeccando pienamente la costante, che infatti si chiama ancora costante di Fermi. Per lunghi anni viene chiamata interazione di Fermi, perché non ci credevano che fosse in realtà una vera e propria interazione. Oggi è l'interazione debole, sappiamo che è l'interazione debole. Ne formula la teoria, ne calcola l'intensità e in pratica apre la strada al modello standard delle interazioni. È la data di nascita, a mio modo di vedere, del modello standard, cioè di questo tentativo di comprensione della natura attraverso l'unificazione delle grandi interazioni. E dopo una serie di discussioni, alla fine la sua teoria viene accettata, viene considerata valida, passa a tutti i filtri, e il modello standard nel 1935 aveva un aspetto, diciamo la versione che avremmo mostrato agli alieni nel 35, di quella slide che ho fatto vedere prima, sarebbe stata questa. Cioè la materia è formata da tre particelle elementari, elettrone, protone e neutrone, le uniche tre che si conoscevano, che interagiscono attraverso quattro forze fondamentali. Vedete, le forze sono già le stesse. Con fermi si è inglobata la forza debole come forza fondamentale della natura e le interazioni sono l'interazione forte, gravitazionale, debole, elettromagnetica. Quindi sembrava già di aver capito tutto, salvo che nel 37, questa è la fisica, la bellezza del nostro mestiere, c'è una sorpresa e questo chi l'ha ordinato, disse, che si stavano studiando allora con grande intensità, una particella nuova, inizialmente chiamata mesotrone, che poi conversi, palcini e piccioni capirono essere in realtà il muone, una specie di elettrone pesante che nessuno aveva ordinato, nel senso che non rientrava in quella categoria. Quindi ricominciare tutto da capo. Ecco la bellezza, una sorpresa, la fisica è una scienza sperimentale, viene fatto un esperimento che produce risultati che non rientrano nella quadro generale, devi ricorrere a una nuova congettura. Anche se questo esperimento è marginale, piccolissimo, a che fare con una particella mai vista prima, che non ha impatto su tutto quello che sai, devi buttare all'aria tutto e riorganizzare in una nuova congettura più ampia che prevede la teoria precedente come caso speciale. L'esperimento ha falsificato quella che pensavi essere la teoria valida, è diventata una teoria sbagliata, la devi buttare nel cestino e devi costruire una nuova teoria. Mentre era in corso questa discussione, la grande storia interviene, la seconda guerra mondiale interrompe, cambia, modifica, stravolge grossomodo queste discussioni. Molti fra i migliori scienziati europei, incluso fermi, fuggono negli Stati Uniti. C'è questo sforzo bellico che porta a concentrare tutta l'attenzione sulla forza nucleare, la possibilità di usare la forza nucleare per scopi bellici, si produce la prima reazione a catena controllata, ancora fermi e poi progetto manate nella bomba atomica. Dopo la guerra in qualche forma continua una forma di ostilità fra Stati Uniti e Unione Sovietica che è conosciuta come guerra fredda. Tutto questo ha un peso diciamo importante alla fine nella ricerca scientifica, ma sono anche gli anni in cui succede qualcosa. E qui entriamo nel vivo della nostra chiacchierata. Perché succede che subito nel dopoguerra, stiamo parlando già del 49, con l'Europa in rovina, con scienziati che si guardavano in Cagnesco perché erano stati belligeranti fino a pochi anni prima, con russi che ancora con gli americani erano in una fase di estremo, di confronto estremamente, estremamente dura. In una situazione disastrata, diciamo, ecco questa è la visione, ci sono delle persone diplomatici e scienziati che hanno una visione. Questo dovrebbe dire qualcosa anche per oggi, a mio modo di vedere. Ci sono dei momenti in cui la situazione sembra disperata e in cui il sogno, la visione, la cosa che sembra impossibile da realizzarsi, produce risultati molto maggiori del tentativo di barcamenarsi, di andare avanti a rattoppare una situazione di difficoltà. Qual è il sogno? Il sogno è di costruire, sul suggerimento di Louis de Broglie, un grande fisico, poi Isaac Rabi e poi Auger Amaldi, essenzialmente un laboratorio di ricerca internazionale che avrebbe ridata all'Europa la possibilità di convogliare le migliori menti dell'Europa, a costruire un laboratorio comune di sforzi intellettuali e materiali e tecnici. Come sito fu scelto Meren, un paesino vicino a Gineva, vedete come era Meren, il sito c'era, quando sono andati la delegazione lì c'erano le mucche che pascolavano dove c'è attualmente il CERN e quindi nasce nel 54 il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare. Nasce come sogno di un gruppo di scienziati e politici europei che dai disastri della guerra vogliono costruire un qualche cosa di avveniristico, di futuristico, un qualcosa per le generazioni future, mettere insieme elementi migliori e costruire il più avanzato centro di ricerca in fisica del mondo. Ecco immaginate nel 49, cioè con le città distrutte, con i paesi devastati, con la gente alla fame. Questo era investire in ricerca nel momento di massima disperazione sul piano economico, di disastro sul piano materiale. C'è un insegnamento lì dentro. Oggi questo sogno è diventato il laboratorio più importante del mondo, i numeri sono qua, sono 3.000 persone di cui 2.200 staff, 10.000 utilizzatori, un miliardo di franchi di budget annuale e qui vedete gli studenti estivi, cioè un polo di attrazione per le centinaia e centinaia di giovani più brillanti dell'intero pianeta. Chiunque abbia un sogno dall'India, la Cina, l'Italia, gli Stati Uniti, di fare qualcosa nella fisica, sogna di andare in qualche momento al CERN. Ecco, questo è quello che ha saputo costruire l'Europa, no? È quello che ha saputo costruire l'Europa in questo campo. È il più grande laboratorio di ricerca del mondo, vedete viene gente, cioè le uniche aree bianche su cui fra l'altro c'è un sacco di lavoro, sono purtroppo le aree in cui lo sviluppo economico è talmente in difficoltà da non avere università, per esempio, non avere, diciamo, attività scientifiche, anche educative, diciamo, e quindi difficile poi avere rapporti, anche se si sta facendo di tutto per estendere i paesi in cui, diciamo, esistono comunità che lavorano, sono interessati al CERN. La vita comunque non è facile per il nuovo laboratorio, perché ovviamente stiamo parlando di una fase in cui gli Stati Uniti dominano la scena internazionale, cioè sono di gran lunga il paese leader nella ricerca scientifica, in particolare nella ricerca scientifica e nella fisica delle alte energie. E quindi il CERN produce il primo acceleratore, il protosincrotrone, 24 GeV, 200 metri, ma ancora gli USA dominano il campo, con Brookhaven è l'acceleratore più potente a quel tempo e vengono effettuati a Brookhaven una serie di scoperte scientifiche di grande rilievo. Cioè i primi anni del CERN non sono ovviamente semplici, perché, diciamo, devi contrastare un'egemonia che è consolidata e che si è basata su investimenti, su ottime università, le università americane, su cervelli importanti, su scienziati che hanno una grande tradizione, fra l'altro arricchiti da tutta la diaspora degli scienziati europei che si erano installati negli Stati Uniti, insomma, negli anni precedenti la guerra. Sono anche gli anni in cui si comincia a definire il modello standard per come lo conosciamo oggi. Nel 67 Weinberg e Salam, insieme a Glashow, formano una teoria unificata delle interazioni elettromagnetiche deboli, cioè interazioni elettromagnetiche deboli sono la stessa interazione. Ci sono apparse fino ad ora interazioni diverse perché non abbiamo capito. Queste due forze fondamentali della natura sono in realtà la stessa forza. e ovviamente però per dare corpo a questa teoria devi ammettere che ci sono particelle che non è ancora trovato, che sono all'origine di questa unificazione e sono le particelle W e le particelle Z che sarebbero fotoni pesanti, i partner del fotone molto ben conosciuti, pesanti responsabili della interazione debole. Con un ragionamento molto semplice, diciamo, l'interazione elettromagnetica portata dai fotoni ha un raggio d'azione infinito, è per quello che la conosciamo così bene, è nella vita di tutti i giorni. L'interazione debole è una specie di interazione elettromagnetica che ha un raggio d'azione subatomico, piccolissimo, è per quello che l'abbiamo ignorata per decenni e solo quando abbiamo cominciato a studiare i decadimenti beta abbiamo cominciato a capire che stava scedendo qualcosa. Perché un raggio d'azione è così piccolo? Perché i portatori sono molto pesanti. Voi sapete c'è una legge in fisica per cui il raggio d'azione di un'interazione è inversamente proporzionale alla massa dell'oggetto che si scambia, di chi porta l'interazione. Il fotone è massa nulla, quindi può arrivare all'infinito. W, Z sono molto pesanti. Quanto sono pesanti si può subito fare il conto. Si guarda qual è il raggio di azione di questa forza debole, è un raggio d'azione di stanze nucleari e subnucleari e immediatamente viene fuori che questi portatori devono avere masse intorno a 100 gem, diciamo, questo è l'ordine di grandezza. Ed essendo oggetti così massicci sono difficili da vedere, non compaiono nella vita di tutti i giorni. Devi produrli ad hoc, altrimenti i loro effetti saranno molto piccoli, molto sottili. C'è un altro problema che hanno dovuto affrontare, ma perché il fotone a massa nulla e W e Z sono così massicci? E qui sono entrati i signori di cui parleremo anche abbastanza diffusamente nel corso della lezione, cioè questi signori, Braut, Englera e Dix, tre anni prima, nel 64, avevano spiegato, ipotizzato un meccanismo che differenziava la massa del fotone dalla massa del W e dello Z. Ma nessuno gli aveva dato retta, ora vi racconto alcuni episodi rispetto a questo. Nel 67 però Weinberg e Salam danno credito a questa teoria, la incorporano nella loro proposta e quindi essenzialmente il modello standard funziona con se si ammette l'esistenza di W, di Z e del bosone di X che differenzia la massa fra fotoni e bosoni vettoriali intermedi. Da quel momento in poi comincia la grande caccia ai bosoni W, Z ed X e la vita del CERN praticamente è intrecciata con questa grande caccia, come vedremo. La teoria di Braut e Englera X parte proprio da quello che dicevo prima, cioè come è possibile che i costituenti elementari della materia e i campi abbiano masse così diverse fra di loro. Diciamo, qui vedete il modello standard attuale, noi sappiamo il top pesa più di 170 gem, e ci sono particelle praticamente come l'elettrone, estremamente leggeri. Allora, perché questa differenza? Come fa ad essere puntiforme, elementare, questa la chiamo bestia, cioè un quark che pesa quanto un atomo d'oro. Le dimensioni di un atomo d'oro sono gigantesche. Quello è un oggetto puntiforme con la stessa massa. Cos'è che lo rende così pesante, così massiccio? È ancora più impressionante, diciamo, come è possibile che W e Z, 80 e 90 gem, siano portatori della stessa interazione portato dal fotone che è privo di massa. È come se avessimo, ora qui, è un giochino questo, il lottatore di sumo contro il bambino, la bambina, di 20 chili. Questa c'è una differenza di massa di dieci volte, ma stiamo parlando di una differenza infinita, cioè il fotone è privo di massa e W e Z, 80 e 90 gem. Chi dà a questi portatori della stessa interazione una massa così diversa fra di loro? Cos'è esattamente la massa? E qui entra in gioco quest'altro gruppo di ragazzi, sottolineo non a caso l'età che avevano quando hanno sviluppato la teoria. Nel 64, vedete, Braut e Engler, i due belgi e il britannico Peter Hicks, sono nei loro 30 anni, 30-35, e sono fra l'altro completamente sconosciuti nel campo, non hanno mai fatto grandi lavori di fisica dell'alta energia, anzi per Braut e Engler è il loro primo articolo e hanno paura di dire castronerie immense. Tutti stavano girando intorno a questa questione, a loro gli è venuta in mente un'idea e mi diceva, Braut purtroppo è deceduto due anni fa, mi diceva Engler, siamo stati mesi perché eravamo convinti, ma com'è che non ci ha pensato nessuno prima di noi? A noi ci sembra una cosa semplice, no? Forse siamo noi che essendo neofiti nel campo non abbiamo capito, scriveremo quest'articolo, ce ne diranno di tutti i colori, avevano paura di mettere per iscritto le cose che sembravano ovvie a loro, e quelle che sembravano ovvie era semplice, cioè c'è, diciamo, cos'è che fa la differenza fra fotoni W e Z? Il vuoto, il vuoto non è vuoto, detta così sembra una cosa semplice, è un'idea veramente originale e pazzesca, no? Cioè il raggio d'azione del fotone è infinito perché il fotone non interagisce con il vuoto, mentre invece W e Z interagiscono con il vuoto, che non è più un vuoto assenza di qualche cosa, ma è un vuoto chiamato elettrodebole, è un vuoto attivo, è un vuoto che ha capacità di interagire con le particelle, e la teoria che producono essenzialmente è che il vuoto è pieno, cioè è pieno di cose, è pieno di un campo scalare, che poi sarà chiamato il campo di X, che ha questa proprietà che interagisce attivamente con le particelle. Capite che l'intuizione è geniale, ma è anche un cambiamento radicale di punto di vista, quindi non mi stupisco a pensare che loro erano molto riluttanti a, perché, diciamo, devi rinunciare all'idea che il vuoto, come l'hanno concepito i fisici, è vuoto, cioè il vuoto diventa pieno, diventa pieno, il vuoto tutto, attenzione, il vuoto dell'intero universo, cioè non è una cosa banale, l'intero universo è pieno di qualcosa. E questa è quella che chiamiamo rottura spontanea della simettria elettrodebole, questa è, diciamo, qualcosa che è proporzionale all'accoppiamento in funzione della massa. Le varie particelle, vedete, le particelle più pesanti, come il top, hanno un accoppiamento molto alto, le particelle più leggere, come i quark charm, o il leptone tau, o il quark b, hanno un accoppiamento molto, molto più piccolo. A seconda della, dimmi che accoppiamento hai e ti dirò che massa hai, no? È una specie di, diciamo, dinamica che viene inventata ad hoc per spiegare questa differenza. Da qui nasce la caccia. La caccia a WZ e a questo punto anche all'X, cioè i tre componenti che sono decisivi per dire il modello standard sta in piedi. E come sempre succede, ci furono subito un sacco di scoperte. In Germania venne scoperto il bosone di X e pesava 9 Geo. Questi sono articoli pubblicati. Questo ve lo dico perché, diciamo, il nostro lavoro è un lavoro fatto di tentativi, di insuccessi, di sbagli, di cose che non si capiscono bene all'inizio, cioè è la ricerca scientifica. Non dovete immaginarla come una sequenza di successi, una specie di marcia triunfale dell'Aida, no? In cui uno comincia, fa l'esperimento, funziona, trova, ne fa un altro, cioè no. Nel 99% dei casi noi combattiamo con i fallimenti. È il nostro lavoro. Siamo lì, al limite della tecnologia. Ci si possono rompere gli esperimenti che non funzionano come vorremmo. Potremmo trovare qualcosa ma diverso da quello che avevamo immaginato di trovare. Insomma, abbiamo lo stato, diciamo, della ricerca. È uno stato di equilibrio instabile, diciamo. Sono esperimenti che sono sempre al bordo, va, così un po' flessibile del fallimento e del successo. Allora, all'inizio ci furono due o tre esperimenti che dichiararono abbiamo scoperto bosoni di Isma. Però ora ne ridiamo, perché ovviamente sappiamo che non era vero, erano errori sperimentali o erano sopravvalutazioni, diflutazioni statistiche. All'inizio 9 GeV, altri avevano visto in decadimenti strani i 28 GeV. Alcuni esperimenti negli Stati Uniti trovavano il bosone di Isma una massa di 75 GeV. Insomma, però, per farla breve, per decenni tutti gli esperimenti che si sono messi in campo produssero solo falsi allarmi. Ovviamente producevano limiti, via via che non trovi qualcosa. Questa è un'altra cosa molto importante, diciamo. Se non trovi una certa particella metti un limite sulla sua massa. Questo consente, ed è importantissimo, cioè il fatto di non trovarlo non è un fallimento, è un risultato scientifico, perché consente ai ricercatori successivi di focalizzare l'attenzione sulle parti non ancora esplorate. Quindi fa parte questo anche del successo scientifico. Però, diciamo, la caccia fu talmente infruttuosa in termini positivi che divenne ben presto soprannominata una specie di araba fenice della fisica dell'alta energia, nel senso che questa particella sfuggiva a tutte le rivelazioni. Nel frattempo al CERN e nel resto del mondo si moltiplicavano le conferme sperimentali del modello standard. E qui c'è il primo risultato importante del CERN, quello che segna un pochino l'ingresso del CERN nel gruppo di elite della ricerca internazionale. E fu la scoperta delle correnti neutre. Il risultato fu ottenuto grazie allo sviluppo di rivelatori di tipo moderno, che sono le camere a nebbia, cioè camere in cui c'è un fluido supersaturo e il passaggio di particelle si visualizza con bollicine. Queste bollicine vengono fotografate e si riesce proprio a vedere materialmente, visualizzare. Questa visualizzazione fu una cosa molto importante. E un esperimento del CERN, di una camera a bolle di enormi dimensioni, chiamata Gargamel, proprio per ricordare i personaggi, le dimensioni. Nel 73, diciamo, vide, questo fu il primo evento, vide, dopo due anni, badate bene, dopo due anni di lavoro e dopo aver analizzato, cioè analizzato, dopo aver, diciamo, analizzato una parte, ma costruito una quantità di eventi che potete calcolare, 1,4 per 10 alla 6, quindi un milione e mezzo di impulsi, ciascuno contenente un miliardo di antineutrini. Quindi immaginate, fate il prodotto di questi due numeri, questi sono gli eventi che hanno dovuto produrre per tirar fuori, con anni di lavoro, tre eventi che però parlavano un linguaggio inequivocabile, diciamo. Sono fenomeni rarissimi. Perché hanno scelto gli antineutrini? Perché gli antineutrini non possono interagire con la materia se non attraverso la forza debole. Quindi tutti gli altri esperimenti in cui si cercava di trovare evidenza della presenza di Z, erano sovrastati da fondo. Questo esperimento, la gente che progettò all'esperimento aveva proprio un'intuizione geniale, dice usiamo neutrini, se usiamo i neutrini e se vediamo, se riusciamo a vedere che, come in questo caso, un elettrone nasce dal nulla nel corso dell'interazione, abbiamo la dimostrazione inequivocabile che c'è stato lo scambio di una nuova particella che è questa Z. L'unica maniera per i neutrini di produrre questo tipo di fenomeno è attraverso l'emissione di questo, l'emissione rarissima e diciamo a bassissima probabilità di questa fantomatica particella. Avendo osservato in due, tre eventi questo fenomeno, cioè che arriva dal niente, parte un elettrone, l'elettrone poi fa le sue spirali, emette i suoi fotoni, i fotoni convertono, tu vedi praticamente apparire un elettrone dal nulla. Ovviamente devi tener conto di tutti i fondi, essere sicuro di non confonderti con altre cose. Però questa fu la prima evidenza indiretta di Z, cioè del fatto che per spiegare questi tre eventi, vi ricordate prima la congettura precedente, fai un esperimento, l'esperimento deve essere spiegato, se vuoi spiegare quell'esperimento devi ammettere che la teoria ora prevede la presenza di questa particella Z. È un'evidenza indiretta, non l'hai rivelata direttamente, ma è fondamentale. Infatti non a caso che tre anni dopo venne assegnato il Nobel a Weinberg e Salam perché quella evidenza indiretta della Z verificava la loro teoria. Ricordatevi questo meccanismo, cioè i teorici hanno prodotto il modello standard ma le verifiche sperimentali erano ancora parziali. Quando si ebbe conferma del fatto che esisteva la Z, quello fu il momento per cui l'Accademia delle Scienze decise che la teoria del modello standard era una teoria che andava premiata perché aveva consistenza e perché era consistente con i risultati sperimentali. A questo punto il CERN si lancia in una impresa di grandi dimensioni, la costruzione dell'SPS, un acceleratore di protoni da 400 gem, ricordate si passa da 20 gem a un fattore 20 superiore, due chilometri di diametro, quindi una macchina di grandi dimensioni e tuttavia l'energia di questo acceleratore era sufficiente per produrre direttamente W e Z. La sfida a quel momento era produrre direttamente W e Z. W e Z sappiamo che esistono, bisogna però a questo punto identificarlo. Sapevamo la massa era 80-90 gem, quindi non era sufficiente l'energia di questo acceleratore per produrre attraverso esperimenti a targhetta fissa, cioè mandando il fascio su un bersaglio, per produrre queste particelle massicce. Qui interviene un altro italiano, un altro grande fisico italiano, che è Carlo Rubbia, nato nel 1934, guardate un anno dopo la formulazione di Fermi della teoria, è come se ci fosse una specie di passaggio di testimone, qui lo vedete anche lui, ragazza, anche lui studente brillante, era normale, insomma adesso ci sono parecchi aneddoti, è rimasto uguale tra l'altro, la cosa che mi ha impressionato è che ora ha 80 anni, insomma è sempre ancora un signore molto energico e lui ha quest'idea, ha l'idea di trasformare questo collisore, scusate questo acceleratore in un collisore, cioè di mettere nello stesso acceleratore due anelli, due fasci, farli circolare in senso opposto, praticamente facendo in protone e antiprotone, ripetendo l'idea originale che qui a Frascati aveva portato al primo acceleratore al mondo, diciamo, il primo collisore al mondo, il primo collisore più e meno, fatto da Bruno Tuschek, prima Ada e poi Adone, praticamente particelle e antiparticelle possono girare nello stesso anello, questa è l'idea geniale, si era fatto con gli elettroni, Rubbia e con Van der Meer, che studiò poi la maniera di produrre grandi quantità di antiprotoni e di ridurre la distribuzione in impulso di questi antiprotoni, riuscirono in questa idea geniale, cioè usiamo l'SPS in forma di collisore, cioè mandiamo nello stesso acceleratore protoni e antiprotoni, a quel punto avremo a disposizione l'energia sufficiente per produrre WZZ, in effetti dopo pochi mesi di operazione, vedete a questo punto l'energia era 270 più 270 GEV, quindi c'era 500 GEV a disposizione per produrre oggetti di 80-90 GEV, ci si poteva fare, e nell'83 furono prodotti i primi WZ, uno Z appare come un evento con due muoni che vengono prodotti a grande angolo e non a caso nell'84 venne assegnato il premio Nobel a Rubbia e Van der Meer. Il CERN ha, nello stesso periodo, lo cito perché è una cosa importante, diciamo vinse, 7-8 anni dopo, un altro premio Nobel che venne assegnato a George Sharpac per la sviluppo di questi rivelatori innovativi, rivelatori camere a fili che ebbero poi un enorme impatto nel nostro campo, questo per dire che il CERN è sempre stato all'avanguardia anche nello sviluppo di rivelatori, cioè non solo nello sviluppo, nelle ricerche scientifiche, nei risultati, ma anche nello sviluppo delle tecnologie necessarie per produrre quei risultati, che come vedete vanno spesso di pari passo, cioè senza una camera a bolle molto performante non si trovava le correnti oscure, senza questa idea di Rubbia e di Van der Meer di mettere insieme in uno stesso acceleratore protoni e antiprotoni non si poteva scoprire WZ e così via, questo è un po' continuato anche successivamente. Nell'81 il CERN si lancia a costruire il più grande acceleratore del mondo, il LEP, è un collisore elettrone-positrone di 27 chilometri di conferenza, è il tunnel attuale di LHC, è stato scavato in quel periodo e l'idea è di usare elettrone e positroni perché sono uno stato iniziale estremamente pulito, lì è proprio energia pura che si trasforma in particelle, non abbiamo nulla che accompagna l'evento della collisione, elettrone e positroni annichilano e producono Z per esempio o altre particelle che vogliamo studiare. Mi piace ricordare che a proposito di italiani che hanno avuto un ruolo importante anche al CERN, il direttore di questa impresa fu un altro italiano, Emilio Picasso, la portò a termine in maniera impeccabile, nell'83 ha iniziato lo scavo nel tunnel e nell'88 ha terminato, consegnato l'acceleratore. Questi sono due dei quattro esperimenti in funzione. Allora si parla già di esperimenti di grandi dimensioni con centinaia di scienziati al lavoro, quindi ogni generazione di rivelatori e di acceleratori produce un aumento di complessità. 14 luglio 1989, Bastiglia, siamo in Francia, Mitterrand, circolano i primi fasci e si producono essenzialmente milioni e milioni di Z. Questa è un'altra delle caratteristiche che vi segnalo, cioè era stata appena scoperta la Z, si fa una macchina per produrne milioni perché attraverso lo studio di precisione di questa nuova particella si cerca di capire intanto se è coerente la teoria che abbiamo del modello standard e poi se è possibile avere indicazioni sulla massa di altre particelle non ancora scoperte, sul bosone di X, sul top. Questa è la maniera con cui, la dinamica con cui procede la ricerca. Una volta che si fa una scoperta si studia con grande precisione la cosa scoperta perché attraverso le misure di precisione di questa cosa appena scoperta si possono avere ulteriori indicazioni o forse anche ulteriori scoperte. E qui vedete il riassunto dei risultati principali ottenuti da LEP, si misura la massa di questo Z con estrema precisione, questo è un parametro fondamentale del modello standard e si misura la larghezza di questa particella, attraverso la misura della larghezza si riesce ad avere un'indicazione molto precisa sul numero di neutrini dell'universo. Vedete come la bellezza della fisica? Hai una particella, la misuri con precisione e l'informazione ti dice quanti sono le famiglie di neutrini leggeri dell'universo intero. In qualunque galassia di questo universo, non necessariamente nella nostra, hanno lo studio di precisione locale di una certa caratteristica, ti permette di avere informazioni di carattere generale. E questi neutrini sappiamo attualmente essere grosso modo tre dentro gli errori sperimentali. Vi faccio vedere queste due cose per curiosità. Cosa sono le misure di precisione? Misure di precisione, vedete, mentre si studiano tutti i minimi dettagli, a un certo punto si vide che c'era una variazione dell'energia della macchina che aveva ogni giorno questo andamento regolare, no? E non si capiva cosa poteva essere, finché si è scoperto che è la Luna, la marea della Luna. La Luna attira l'acceleratore, cambia le dimensioni dell'acceleratore. Cambiando le dimensioni dell'acceleratore di 300 micron su 27 chilometri, avete idea di cosa vuol dire un terzo di millimetro in un anello di 27 chilometri e rotti, si riesce però a misurare questa variazione come energia dei fasci, cioè questa particella prodotta, vediamo cambiare l'energia dei fasci attraverso le misure di precisione su questa particella prodotta, di quel tanto che è spiegabile con la marea lunare. Un altro fenomeno ancora più intrigante, c'era, vedete, questi pattern strani, non periodici, ma che avvenivano tutti i giorni più o meno a una certa ora, no? Fate conto alle 5 e un quarto, no? Ma non precisamente, ogni tanto alle 5 e 12, ogni tanto alle 5 e 16, cose così. E non si capiva cos'era, fino a che si è scoperto che è il TGV, cioè il treno che passava a qualche chilometro dall'acceleratore, ovviamente produce correnti che sono indotte dal passaggio del treno, questa induzione di correnti debolissime arriva anche alla beam pipe, ai magneti dell'acceleratore che è sottoterra a qualche chilometro, ma riesce ad arrivare a un piccolissimo, debolissimo campo magnetico e quindi praticamente stavamo misurando l'orario del TGV, quanto il TGV arrivava in tempo. E infine, proprio per dirvi quella cosa a cui vi accendavo prima, nell'ultimo anno di LHC c'è stata una grande eccitazione, perché sono venuti fuori un pugno di eventi molto strani, tipo questo per esempio, che potrebbero essere identici a quelli che uno vedrebbe se ci fosse il bosone di X. Quindi c'è stato un periodo in cui l'agente di LEP pensava di avere scoperto o cominciare a vedere i primi segni della presenza del bosone di X. Il bosone di X ha una massa di 114 GV. E qui vedete, questo era questo rosso, questo eccesso piccolo, due sigma, quindi non sufficiente per dire abbiamo fatto una scoperta, ma abbastanza intrigante che ti dice ma forse c'è davvero lì, scatenò un pandemonio di cui non si racconta molto. Ma vi posso garantire ci furono riunioni accesissime, conflitti, gente che non si parlò per anni. Questo fa parte anche del nostro lavoro, diciamo. Fa parte anche del nostro lavoro. Perché? Perché l'app doveva chiudere? Perché dovevamo cominciare a installare LHC nello stesso acceleratore, nello stesso tunnel, no? Quindi bisogna smontare l'app, chiuderlo, levare i magneti di LEP e montare quelli di LHC. E ci volevano anni per fare questo lavoro. Allora una grossa comunità di fisici che spingeva per dire guardate questi eventi sono veri, qui stiamo veramente vicini a scoprire una cosa fondamentale, fece una grossa pressione sul direttore del CERN e alla fine il direttore del CERN, che era Luciano Maiani, fra l'altro un altro italiano, concesse altre sei settimane. Ok, dice, si va avanti altre sei settimane, se tutti gli esperimenti al lavoro mettono su un altro gruppo di eventi, se mi convincete che questo gruppo di eventi non è fluttuazione statistica ma comincia a essere qualcosa di serio, allora si discute. In realtà dopo sei settimane non saltarono fuori altri eventi, altri vennero fuori un po' di dubbi su alcuni di quegli eventi iniziali che erano stati presentati e qui entra in gioco la decisione. Luciano Maiani prese la responsabilità. Vi posso garantire che non fu facile, tant'è vero che io so di persona, di gente che ne ha dette peste e corna per anni di Luciano Maiani, ho detto molti gli saltarono alla gola, nel senso di dire tu non capisci, non hai fatto, ma aveva ragione lui. Oggi che abbiamo scoperto il bosone di Higgs sappiamo che è stata la scelta giusta, cioè se lui non avesse deciso di chiudere avremmo perso anni di tempo, forse dando agli americani, che stavano anche loro facendo il loro meglio per scoprire questa particella fantomatica, una possibilità di successo. Ho chiesto a Luciano Maiani recentemente quanti di quelli che le avevano insultato sono venuti a lui a dire avevi ragione, lui mi ha detto 2 su 40, quindi questa è la vita, se li è segnati però, se li è segnati. Insomma questa storia è andata avanti fino a che diciamo in qualche maniera una nuova generazione di scienziati, allora giovani diciamo, ha cominciato a pensare a costruire una macchina talmente avveniristica, con la tecnologia talmente spinta da consentire in qualche modo la scoperta di questo bosone di Higgs, o scoprirlo o cancellarlo, cioè più o meno l'atteggiamento che c'era negli anni, in fine anni 80, di dire basta ora o costruiamo una macchina e se c'è questo maledetto bosone lo troviamo, oppure dobbiamo dire non c'è e lo abbandoniamo. È l'avventura di LHC. LHC conoscete, penso, molti dettagli, è uno dei luoghi più freddi dell'universo, è uno dei luoghi più caldi dell'universo per via delle temperature che produce. Il progetto è iniziato nell'82, è finito essenzialmente la prima collisione nel 2008, però l'è vero inizio della fisica, stiamo parlando del 2010, quindi ci vuole vent'anni, venticinque anni per costruire un acceleratore di queste dimensioni. Questo è il tunnel di LEP con ora equipaggiato CMS, ATLAS, LHCB e Alice, sono esperimenti dedicati l'uno alle misure di precisione nel settore del B, l'altro alla fisica degli heavy flavor. Siamo arrivati allora a LHC, a questo gioiello di tecnologia e ricordavo che c'è una forte partecipazione concettuale, la cosa che mi piace sottolineare, vedrete c'è una grossa partecipazione anche produttiva di aziende, di fisici, di tecnologie, l'INFN ha giocato un ruolo decisivo nella costruzione di questa macchina. Il primo magnete di LHC è stato fatto dall'INFN, quindi è una delle cose di cui andiamo molto orgogliosi, ma anche proprio concettuale, vedete, quest'idea di mettere nello stesso campo magnetico due fasci indipendenti, avete idea di cosa comporta questo? Comporta che i costi sono diventati abbordabili, sono enormi i costi, ma se avessimo dovuto costruire due linee di fasce di magneti diversi sarebbero diventati costi forse impossibili da affrontare, forse non si poteva costruire questa macchina, questo è proprio il segno della creatività e della inventiva, e qui Giorgio Brianti è stato proprio il padre di questa idea che ha funzionato egregiamente. E poi c'era da costruire questi magneti, questi 1232 dipoli, vedete questi oggetti di grandi dimensioni, questo è l'ultimo che viene calato in LHC, molto complicati, il progetto, dicevo prima, il primo prototipo è stato fatto dall'Italia, dall'INFN, dagli ingegneri e i nostri esperti migliori di magneti, con aziende Lansaldo a quel tempo coinvolte direttamente. Poi è stata assegnata una commessa a tre ditte per essere sicuri che se una non riusciva a farli le altre avrebbero potuto sopperire, perché è una tecnologia estremamente difficile, una italiana, una francese e una tedesca. La cosa che mi piace sottolineare è che ora che sono stati prodotti i magneti italiani sono perfetti, mentre se ci sono delle preoccupazioni sono su quelli tedeschi, una volta tanto ci siamo presi. Tutta l'impresa coordinata da un altro italiano, Lucio Rossi, dipendente di NFN e università, che poi si è trasferito al CER per seguire questo lavoro. Magneti nel tunnel, come vedete quando avete installato i magneti nel tunnel l'impresa non è finita perché i magneti sono indipendenti, vanno connessi, questo deve essere attaccato fisicamente a quell'altro e per attaccarlo devi usare queste interconnessioni, devi connettere tutti i cavi, tutte le linee di criogenia uno all'altro e in particolare i cavi superconduttori. Questo cavetto qui, questa piattina che sembra una piattina di rame di un centimetro per un millimetro porta a 12.000 ampere. Se qualcuno di voi conosce, ha maneggiato 12.000 ampere sa che è una quantità di corrente non banale. Ovviamente sono superconduttori quindi a resistenza molto bassa, ma lì c'è un punto critico perché lì i due superconduttori devono essere saldati fra di loro e se c'è qualcosa che non funziona quello lì è uno dei punti che può crearti problemi. E siccome la macchina è fatta da 1200 magneti e c'è un sacco di saldature da fare, alla fine sono circa 10-12.000 interconnessioni da fare e devi essere sicuro che tutte funzionino perché se ce n'è una che non funziona e ci sono dei guai. Eravamo tutti contenti nel settembre 2008 quando in LHC hanno circolato i primi fasci e questa è una lastrina di ceramica in cui vedete questa specie di spot giallo, è un fascio che entra da una parte ed esce dall'altra, quindi vuol dire che ha fatto un giro essenzialmente. E lì è scoppiato l'entusiasmo, abbiamo dopo anni e anni di fatica costruito questa macchina bellissima, c'era entusiasmo in tutte, vedete, le sale di controllo, il champagne, gente che descriveva, tutti contenti, ora fra pochi mesi scopriremo bosone di X, faremo, questo era lo spirito di quel tempo e siccome la vita riserva sempre sorprese, vedete una di quelle 12.000 interconnessioni ha avuto un problema e dopo nove giorni praticamente, dunque il comunicato stampa del CERN diceva testualmente c'è stata un difetto in un'interconnessione magnetica, c'è stata una perdita di elio, i magneti sono stati tirati giù, l'acceleratore è in condizione di stand by, diciamo tutte cose politicamente corrette per dire che è avvenuta un'esplosione, cioè voi immaginate una stringa di 20 magneti che pesano 20-30 tonnellate ciascuno, spostata, questo oggetto qui era qua, no? E allora voi prendete 20 magneti da 20 tonnellate e provate a spostarli, è chiaro che non è una piccola fuga d'elio, insomma è stata una vera e propria esplosione che ci ha messo, cioè noi che sapevamo cos'era successo, guardate quelle regioni di interconnessione come si erano ridotte e lì abbiamo avuto veramente paura, paura di non riuscire a rimettere in piedi tutta la faccenda, paura di chiudere la nostra esperienza con un fallimento, dicendo non siamo, abbiamo osato troppo, questa macchina è troppo difficile, non siamo riusciti a farla funzionare. 53 magneti da rimpiazzare, 25 milioni di franchi da spendere, un anno e mezzo di lavoro di centinaia e centinaia di persone e poi c'è anche da fare in modo che non succederanno più queste cose, quindi quando un incidente di questo tipo succede devi riguardare tutto ed essere sicuro che non ci siano possibili sorprese. Il programma di LHC è stato immediatamente ridimensionato, non si viaggia più a 14 TeV, semmai si fosse ripreso a funzionare si funzionava a 7 TeV, la metà dell'energia di progetto. Le sezioni d'urto, cioè le probabilità di produrre oggetti pesanti, crescono rapidamente con l'energia della macchina. Se tu devi produrre un bosone di X a 14 TeV, è un gioco da ragazzi rispetto a quello che deve, ha la difficoltà di produrlo a 7 TeV. La probabilità è molto più bassa, è così per tutti gli oggetti massicci. Cioè per noi questo voleva dire lasciate ogni speranza a voi che entrate, cioè scordatevi di scoprire il bosone di X. Questo era il messaggio che nel 2008-2009 abbiamo recepito. Si sarebbero annato due anni soli, 2010-2011, a 7 TeV, a una intensità di progetto, quella che chiamiamo luminosità, 100 volte più piccola. Quindi due volte energia più bassa, 100 volte più piccola l'intensità. Appunto, non c'è speranza di scoprire il bosone di X. Questa era l'opinione. Dopo due anni si apriva tutta la macchina, si riparavano tutte queste interconnessioni e poi si sarebbe forse ricominciato nel 2013-14-15 a far funzionare la macchina a 14 TeV. Quindi se c'era qualche speranza di scoprire il bosone di X bisognava aspettare il 2014-2015. Queste erano le discussioni che avevamo allora. Ma come spesso succede, vedete, nel nostro ambiente, cioè sfida tecnologica, ci sono momenti in cui veramente sei al tappeto. Questo era uno di quelli. Cioè eravamo convinti di essere a capolinea, cioè di avere urtato contro un muro e di essersi fatti male, insomma, essenzialmente. Però ci sono anche, e questo ha a che fare proprio con la complessità degli oggetti che costruiamo. Vedete, questo è Atlas, diretto per molti anni da Fabiola Gianotti, un'altra scienziata italiana. Vedete le persone qui, sono giganti, vedete qui una fisica che stessero nella parte in avanti di Atlas, sono oggetti di 4-5 piani lunghi 50 metri. Cioè un esperimento di fisica dell'alta energia è un oggetto gigantesco. Allora perché dico questo? Vedete, qui vedete meglio in scala reale, no? Come si presenta durante la costruzione, la costruzione di Atlas. CMS è un po' più piccolino, ma non troppo più piccolino. Vedete qui una persona che è appoggiata a questa ruota, sono 14.000 tonnellate, 21 metri di lunghezza, cioè stiamo parlando di palazzi di tecnologia che richiedono sviluppo di tecnologie più innovative, cioè non c'è nulla di queste cose che andiamo a comprare al supermercato. Nessuna ditta al mondo ci può fare questi rivelatori, se non lavorando con noi a produrre prototipi, a produrre nuovi sensori, a produrre nuove elettroni. E questa cosa è stata anche la nostra fortuna, cioè per fare, per raccogliere queste sfide hai bisogno di migliaia di persone. Vedete questa è una fotografia presa durante una festa di CMS, qui vedete una gigantografia in realtà però in scala 1 a 1 fa vedere le dimensioni del rivelatore, vedete stiamo parlando di migliaia di scienziati, 3.300 scienziati e ingegneri, circa 900 studenti provenienti da tutto il mondo. Allora, qui questa è stata la chiave di qualche cosa, cioè in una collaborazione in cui c'hai mille studenti, quando io andavo a giro a discutere, a quel tempo era spokesperson di CMS, cosa si può fare, scoprivi negli occhi dei giovani che c'era l'idea che forse non bisognava rassegnarsi, che forse ci si poteva provare lo stesso, che forse anche con la macchina che andava a sette teve e cento volte meno luminosità, chi l'ha detto che non c'era speranza di riuscire a trovare il bosone X, perché non si poteva riguardare tutte le cose da capo? Attenzione, i fisici esperti ci dicevano che è impossibile e forse avevano ragione loro, perché usando i metodi che fino allora avevamo usati sarebbe stato impossibile, ma facendo leva sulla parte più innovativa e creativa delle collaborazioni, quelle migliaia di giovani che avevano voglia a tutti i costi di dimostrare anche loro le loro idee, rimettendo in discussione tutto si è deciso, ok, ricominciamo da capo, vediamo se è possibile, anche se la macchina funziona in queste condizioni, di scoprire il bosone di X. E si è buttata a mare la vecchia strategia, vedete questa era la strategia con cui pensavamo nel 2008 di scoprire, sì, il bosone di X. X. Si scopriva in due fotoni, in un canale solo, però vedete una intensità enorme, oppure se era a massa più elevata in questo canale a 4 leptoni, se ancora era più pesante in questo canale, un solo canale faceva la scoperta, era facile diciamo. Questa cosa la dovevamo scordare, abbiamo messo insieme una nuova strategia, giusto appunto con quel lavoro di centinaia e centinaia di giovani, praticamente mettendo insieme tutti i canali possibili e immaginabili. Scordati di scoprire il bosone di X in un solo canale, metti insieme decine, centinaia di canali, ha comportato mettere al lavoro centinaia di persone. In CMS lavoravano alla ricerca e alla scoperta di X, 700 persone, tanto per dare un'idea dei numeri che sono necessari per fare queste operazioni complesse. E forse si riusciva, se il bosone di X fosse stato presente in questa regione, ad avere qualche prima indicazione. Insomma, per farla breve, nuovo piano. Discussioni. Sì, avremmo rannato per tre anni, anche nel 2012. Avremmo cercato di raggiungere luminosità fino a qualcosa in 10 alla 33. Avremmo fatto di tutto per scoprire il bosone di X prima di riparare le interconnessioni e di fare questo long shutdown. O la va o la spacca. Questo era più o meno l'atteggiamento. C'era da affrontare collisioni di una difficoltà, cioè un prezzo da pagare era che c'era un numero di eventi che si sovrapponevano agli eventi di base più interessanti, enorme, fino a 20-30. C'era da rimisurare tutto. Vedete, queste sono le misure che uno fa preliminarmente alla ricerca del bosone di X. Prima devi riscoprire tutta la fisica conosciuta. Non ti azzardare a pensare di scoprire il bosone di X se non hai riscoperto tutto il modello standard, in tutti i suoi aspetti, hai rimisurato tutto. Fino a che a un certo momento c'è stata questa prima grande sorpresa, perché nel 2011 la macchina ci ha dato una luminosità integrata, cioè un numero di dati che era 5 volte superiore a quello che pensavamo. 5,5 Femto Barney inversi. Le previsioni erano di arrivare qui e invece arrivamo qua. E quella era proprio la frontiera oltre la quale se c'era il bosone di X si sarebbe dovuto vedere qualcosa. E in effetti nel dicembre 2011 abbiamo presentato al mondo, in questo primo seminario speciale, i due esperimenti, che stava succedendo qualcosa. I due esperimenti vedevano praticamente non c'era nulla, tranne che in questa regione di massa a 125 Gev, vedete qui, qui c'era questo picco, questo piccolo eccesso, ancora piccolo per dire abbiamo scoperto qualcosa, ma significativo perché entrambi stavano vedendo la stessa cosa, cioè si cominciava a vedere che lì stava succedendo qualcosa. Ovviamente prudenza e pazienza, non c'era bisogno di correre, avremmo preso altri dati, se questo che vedevamo fosse stata una fluttuazione statistica, gli altri dati avrebbero fatto sparire questo eccesso di eventi, se fosse stato un fenomeno vero, avremmo visto, avremmo potuto confermare con alta confidenza la scoperta. Quindi abbiamo preso dati alla cieca, alla cieca vuol dire senza guardare quello che stava succedendo, per essere sicuri di rimanere scevri da ogni condizionamento, aprendo tutti insieme i dati nella regione segnale in un certo momento, in un certo periodo e abbiamo cominciato a vedere eventi di questo tipo, i due esperimenti in questo canale con l'X che decade in due fotoni, vedevano accumulando i nuovi dati ai vecchi, si vedeva inequivocabilmente un eccesso di eventi in questa regione, a 125 jeb, in quella stessa regione che aveva generato interesse nel 2011. Per di più, in un altro canale altrettanto importante, con l'X che decade in due z e gli z che vanno in due leptoni, anche qui si vedeva, vedete, un eccesso di eventi in entrambi gli esperimenti intorno a 125 jeb e a quel punto c'è stata l'annuncio al mondo, di cui avete sentito parlare tutti, il 4 luglio del 2012, non ci sono stati più dubbi e i due esperimenti hanno presentato la scoperta di quello che allora chiamavamo un bosone di tipo X ad LHC. E questa è la storia di quei sette mesi, questa è una delle cose che mi piace di più, in sette mesi è proprio cambiato il nostro mondo, siamo passati da quella depressione in cui sembrava che non succedesse nulla a una scoperta che ha forse un'importanza di tipo storico. La cosa che voglio sottolineare è che gran parte di questo merito va a quelle centinaia di giovani che hanno reso possibile questa scoperta, producendo questa sfida, diciamo, mi ricordo le discussioni, scopriremo il bosone di X o lo escluderemo per sempre? Questo era lo spirito che si respirava. Concludo, è realmente il bosone di X? Prima cosa che credo sia utile per l'assicurante, i nuovi dati che sono stati presi successivamente continuano a confermare che lì sta succedendo qualcosa. Ora vedete quel picco poco visibile, ora sta diventando un picco insomma evidente. Cioè non c'è dubbio che questo nuovo stato della materia è lì. Qualunque esperimento successivo che dovesse ripetere l'esperimento troverà ancora questo nuovo stato della materia. Questo è un po' complicato da spiegare. Abbiamo dovuto verificare che guardando le distribuzioni angolari dei prodotti di decadimento che questa particella nuova sia uno scalare essenzialmente, cioè dobbiamo misurare le proprietà spin e parità di questo oggetto prima di poter dire assomiglia davvero al bosone di X. Questo l'abbiamo fatto con un lavoro molto accurato in entrambi gli esperimenti, alla fine era che tutti i dati sono consistenti che il nuovo bosone è in effetti uno scalare. In più abbiamo controllato gli accoppiamenti di questa particella a tutte le particelle conosciute. Vi ricordate quando faccio vedere la rottura di simmetria elettrodebole, la teoria di Brautengler X, c'era un plot di questo tipo con il top che si accoppia molto fortemente e il b e il tau che si accoppiano più debolmente. Ecco, questo è quello stesso grafico ora in forma sperimentale. E quindi a quel punto, diciamo, è stato assegnato il premio Nobel a Higgs ed Engler, Braut era deceduto forse sfortunatamente due anni prima, perché, diciamo, la scoperta del CERN ha reso valida la teoria che i ragazzi del 64 avevano sviluppato, che spiegava la simmetria tra massa del fotone e massa del W e Z. Scherzo con questa, le prime implicazioni della scoperta mi dice sempre un sacco di gente, hai dovuto comprare un sacco di abiti eleganti, non si sono mai visti tanti fisici eleganti come dopo la scoperta dell'Higgs, per me Fabiola, Peter Yenny, Joe, insomma, dobbiamo andare ogni tanto a fare queste cose e ci prendono tutti in giro. È chiaro che si è imparato qualcosa di importante sulla nascita del nostro universo, cioè questa è una cosa che bisogna sottolineare. Cioè, questo meccanismo che si è instaurato nei primi istanti dell'universo è tuttora in funzione. Se questo meccanismo, se entrasse in sciopero il bosone di Higgs domattina, l'universo, diciamo, perderebbe la forma che ha di colpo, cioè è un meccanismo vitale, decisivo per dare all'universo materiale in cui siamo immersi la struttura che gli conosciamo. Per di più, come vi ricordavo sullo Z, avendo scoperto ora il bosone di Higgs, la misura di precisione delle caratteristiche di questa nuova particella potrebbe aprire nuovi spiragli su scoperte future. Come è avvenuto per lo Z, così stiamo cercando di lavorare sul bosone di Higgs e infatti si stanno discutendo attualmente macchine che sono Higgs factory, cioè macchine che producono in grande quantità bosone di Higgs per poterli studiare con grandissima precisione. Se si scoprissero delle anomalie nelle caratteristiche del bosone di Higgs avremmo scoperto qualcosa di nuovo che ancora non è stato previsto. Quindi qui rimanete sintonizzati perché ci potrebbero essere sorprese. C'è poi un aspetto che vi voglio sottolineare rapidamente. Avendo ora misurato la massa del bosone di Higgs, noi siamo in grado di dire qualcosa sulla vita media di questo vuoto pieno che tiene in piedi l'universo intero. Il vuoto elettrodebole, cioè questa struttura così vitale per il funzionamento dell'universo, è stabile? Sì, sappiamo che è stabile per 13,8 miliardi di anni, finora ha retto, ma quanto reggerà? Allora a questa domanda si può cercare di rispondere con grafici di questo tipo e in cui si vede che diciamo attualmente noi siamo qui, in questa regione, grosso modo, non è proprio vicino alla stabilità, è un po' distante dall'instabilità. Se fossimo qui l'universo non starebbe in piedi, se fossimo troppo più sotto avrebbe una forma completamente diversa da quella in cui siamo. È come se questa cosa ci dicesse è un insieme di circostanze molto specifiche e particolari che ha fatto sì che questo universo materiale prendesse questa evoluzione. E ovviamente ora si sta studiando per ridurre al massimo questo elisse e vedere se si va verso l'instabilità o verso la stabilità e se la regione, vedete queste linee rosso, sono le regioni in cui si può rompere, se c'è un'energia alla quale si può rompere questo equilibrio delicatissimo. Ci sono altri che cominciano a pensare anche che, vedete, l'inflazione, cioè quella fase originaria dell'espansione dell'universo, il Big Bang, la nascita vera e propria dell'universo, è dovuta a un campo scalare, questa è una cosa abbastanza nota. Ora l'X è la prima particella scalare, alcuni pensano che questa stessa particella scalare che dà la massa alle particelle sia anche in qualche modo responsabile dell'inflazione. Attenzione, è una teoria che spacca a due, in due metà i fisici, ci sono ferocissime discussioni, alcuni dicono non è possibile, i dati non sono compatibili, altri sono convinti che questa sia la spiegazione economicamente più semplice. Da un lato potrebbe essere che abbiamo fatto due scoperte in una, cioè che la particella scalare che dà la massa alle particelle, con quella massa speciale che ha, potrebbe avere originato proprio l'inflazione, potrebbe avere, a quel punto sì, bisognerebbe forse chiamarla particella di Dio, cioè nel senso che avrebbe avuto un ruolo decisivo nella produzione dell'universo attuale. Questo per dirvi che da questa scoperta le domande che sono scatturite sono enormi e su queste domande dovete immaginare un'altra fase di lavoro, perché ovviamente il modello standard non spiega un sacco di cose, noi sappiamo ora che è valido, ma sappiamo che non spiega la materia oscura, l'energia oscura, non spiega la gravità, quindi sono troppe cose che sono al di fuori del modello standard. Bisogna ricordare che abbiamo esplorato solo questa fettina, vedete, finora LHC ha esplorato in questa torta di esplorazione, diciamo, solo questo spicchio infinitesimo. Ci sono ancora 20 anni di lavoro e l'energia crescerà a 13-14 TeV l'anno prossimo, quindi c'è ancora un sacco di lavoro da fare e le sorprese potrebbero non essere finite. E tuttavia, anche dopo la scoperta del bosone di Higgs, è valido quello che diceva Isaac Newton qualche secolo fa, che ciò che conosciamo rimangono piccole gocce, cioè come dicevo prima, l'energia oscura, la materia oscura sono ancora il 95% della materia che è un po' un universo, cioè le cose che non conosciamo sono di gran lunga superiori a quelle che conosciamo. E concludo quindi dicendo, e questo è un messaggio soprattutto per voi, per i vostri studenti e per il lavoro che fate appassionatamente, che abbiamo bisogno di una nuova generazione di giovani ricercatori per continuare il lavoro cominciato circa 400 anni fa da questo grandissimo scienziato italiano e abbiamo bisogno di nuove idee, abbiamo bisogno di nuove gente appassionata che lavorerà, come abbiamo fatto noi per una generazione, a cercare di dare risposta a questi misteri. Grazie. Applausi. È il caso. Non è tardi oramai, quindi non farei altre domande.